Una giornata importante, una giornata dove viene posto il centro dell'attenzione sulla ristorazione veloce sui prodotti DOP e IGP. Questi prodotti a pieno titolo entrano nella ristorazione veloce. Il senso di questa giornata dal punto di vista anche della comunicazione? Guardi, io la vedo con una giornata interessante come non mai perché è diretta soprattutto ai ragazzi, ai giovani. I nostri prodotti DOP e IGP sono dei prodotti tradizionali che rientrano nella cucina tradizionale delle varie regioni e territori italiani, però richiedono anche una dose di conoscenze e anche delle condizioni per preparare i piatti tipici. Mentre invece oggi presentare un panino, un piatto semplice per eccellenza, che tutti possono fare, posso farlo anch'io, a dei giovani abituati a fare anche delle fusion oppure utilizzare ingredienti vari, combinazioni, ecco il più virgolette strane possibile, ecco questo è un'occasione importante, innovativa. Per dire, i prodotti sono comunque dei prodotti innovativi pur essendo tradizionali. Questo mi piace molto e credo che sia veramente accattivante per i giovani, ma soprattutto per i giovanissimi che non erano fino almeno a 5-6 anni fa così abituati a sentire parlare di materie prime, importanti, garantite e anche di qualità. Questi prodotti che entrano a pieno titolo, lo abbiamo detto in questa ristorazione veloce, avranno una più ampia diffusione? Perché almeno fino a una decina d'anni fa venivano considerati prodotti un po' di nicchia, almeno in Italia, non all'estero. Ma vede, è chiaro che sono prodotti del territorio, ci sono prodotti ottenuti in grande quantità, formaggi prodotti in oltre 150.000 tonnellate, ci sono ovviamente anche delle nicchie, però queste sono pur sempre prodotti che derivano dal proprio territorio, per cui anche se un prodotto è ottenuto in piccola quantità e commercializzato in un'area limitata, ciò non toglie che il turismo possa sfruttarlo, per dire che offriamo ai turisti che vengono in quel territorio per osservare i beni ambientali, culturali, artistici e gastronomici, quindi offrire anche un pannino con questo prodotto del territorio, una nicchia. C'è lì? Bene, vai lì e lo trovi. Questo è bellissimo. La giornata di oggi non deve essere un momento unico, dovrà avere una diffusione importante perché questi prodotti entrino veramente nel concetto di ristorazione veloce. Lei, come segretario generale, come pensa che possiamo essere incisivi durante tutto l'arco dell'anno? Continuare a parlarne come? Dunque, continuare a parlarne mostrando la diversità di questi prodotti, diversità sia come caratteristica merceologica, perché vanno dei prodotti vegetali, prodotti animali, vanno appunto a dei prodotti che entrano dentro le ricette, e poi comunque anche come prodotti che caratterizzano il territorio, e quindi vanno appunto dalle Alpi fino al sud, al profondo della Sicilia, e quindi anche nelle volvere delle stagioni abbiamo dei prodotti che vanno meglio, che so io penso a prodotti carni che affumicate vanno meglio a caso mai in inverno, sui campi da sci, altri invece, penso a dei prodotti vegetali, che pomodori o altro, che vanno meglio in estate. Perché appunto abbiamo questo, tutto l'anno ci può essere appunto un prodotto adatto alla stagione, adatto anche all'ambiente, e quindi questo è un senso appunto della rilevanza e del patrimonio di questi prodotti top IGP. Questo è molto interessante perché mi viene da dire, avremo quindi dei panini stagionali, o comunque diciamo i grandi distributori, somministratori di cibo veloce, non faccio nomi di marchi ma li conosciamo tutti, e si caratterizzeranno anche con dei menu stagionali. Chiudiamo dicendo questo, i giovani attraverso questo modo veloce riusciranno a conoscerli questi prodotti, perché tendenzialmente magari li studiavano ma non avevano a che fare manualmente, quindi questo può aiutare molto. Sì sì assolutamente, è un modo per avvicinare questi prodotti, altrimenti sarebbero stati inavvicinabili se fossero stati offerti solo col piatto tradizionale fatto, mentre invece un panino è molto semplice, semmai che cambia da estate a inverno, di cui è chiaro dove ecco vari ingredienti, però importante ecco questi ingredienti non si confondono fra di loro, cioè emerge la loro proprietà principale che è il gusto, le caratteristiche sensoriali, per cui tocca a questi studenti fare in modo che queste diverse caratteristiche sensoriali vengano sfruttate al meglio. Grazie. Grazie.